E là, bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter che sono io. Allora, bianco e nero oggi, perché quando parlo di questo autore io sento l'esigenza di una formalità maggiore, di un rispetto, di un'eleganza maggiore rispetto al solito. Quindi ci prendiamo un po' più sul serio oggi, ok? Perché? Perché parliamo di Mark Fisher. Ragazzi, questo è un video per me cruciale, importante per comunicare con voi certi concetti, per cercare, tutti noi che amiamo questa narrativa del brivido, dello scuro, ma anche dell'immaginario, insomma, per cercare di capire cosa c'è dentro, cosa c'è dietro, cosa c'è veramente sotto, ok? Mark Fisher ci ha aiutato in questo senso. Vi metto qui sopra la scheda che rimanda alla prima recensione, alla prima dissertazione tentata da parte mia per discutere con voi Mark Fisher quando vi parlai di The Weird and the Eerie. Questo suo libro straordinario pubblicato da Minimum Facts in cui criticamente lui dimostrava che il Weird è un genere letterario, diciamo è un mood letterario estremamente contemporaneo perché riflette che cosa? La paura indistinta di una minaccia incomprensibile e ineffabile che permea la nostra società. Pensate soltanto al terrore per i cambiamenti climatici, per le nuove epidemie, e tutte queste paure indefinibili, che è difficilissimo anche soltanto catalogare. Il Weird è la letteratura che descrive questa sensazione. E poi Leary, cioè più vicino alla paura tradizionale, l'orrore. Insomma, viviamo in un'epoca in cui la fantascienza, diciamo la verità, ci rappresenta un po' poco, cioè quella fiducia nel progresso, nella tecnologia, nell'innovazione tecnologica, perché l'innovazione tecnologica è contemporaneità, è quotidiana, è quasi veramente, ovunque ti giri, c'è un'innovazione tecnologica. Mentre questa paura, questa sensazione Weird and Deary, c'è, c'è. Allora, lui ci aveva parlato di questo, ma ci ha parlato anche di molto altro, e io ho voluto approfondire la sua conoscenza, per capire veramente, perché mi ha dato l'impressione Mark Fisher di essere uno dei più grandi, dei geni pensatori relativi alla contemporaneità, ma non quella vaga, quella che viviamo veramente. Ora, lui era molto inglese, dico era perché purtroppo è morto di suicidio per depressione, e quindi i suoi libri sono molto imbevuti di televisione, di cinema, di musica inglese, ok? Però la sensazione, le realtà che descrive sono così universali che possiamo parlarne. Allora, vi metto qua sotto il link ai suoi libri che vi consiglio assolutamente di comprare, compratele, fatevi questo regalo, fatelo al vostro cerebro, e comprateli se potete da questo link, se volete, perché così aiutate questo canaluccio ad autosobvenzionarsi, a me a comprare altri libri, così ve ne parlo, ok? Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di Spettri della mia vita, sempre edito da Minimum Facts di Mark Fisher, che è una raccolta di articoli su che cosa? Che sto qui. scritti su depressione, ontologia e futuri perduti. Ecco, voi adesso mi direte, ma cazzo, ma proprio depressione? Sì, perché? Perché la depressione, che portò poi alla morte Mark Fisher, lui è riuscito veramente a portarla su un piano completamente diverso da quello che abitualmente associamo ad essa, cioè un fatto individuale. No, lui ci ha dimostrato e ha argomentato straordinariamente bene che è un fatto politico, sociale, politico, perché, detto in breve, anche nel suo straordinario realismo capitalista, che vi metto sempre qui sotto se volete acquistare, la sintesi qual è? La depressione è che è un fenomeno endemico della società avanzata occidentale, perché essa ha completamente abdicato l'idea dell'utopia, cioè l'idea che si possa modificare e proiettare verso un futuro migliore la nostra società, cambiando il nostro modo di vivere. Perché ci abbiamo rinunciato a tutta una serie di eventi, tutta una serie di prospettive che sono venute a mancare, anche col crollo del muro di Berlino, con il crollo dell'ideologia, insomma del comunismo, del pensiero, che ci fosse che cosa? Un'alternativa al capitalismo. Il capitalismo ha completamente invaso poi la nostra, la struttura stessa del nostro pensiero relativo al vivere ed è diventata una realtà immutabile. Da lì il concetto di realismo capitalista, cioè il concetto che non c'è nessuna alternativa e tutti noi siamo diventati realisti, ma realisti, capitalisti, ok? Non si è più realisti, si è realisti, capitalisti, cioè si pensa che non si possa modificare questo stato di cose. Se ti va bene, se sei uno di quelli che in questo, in questa complessa, intricata, accanita competizione dell'uno contro l'altro ti trovi bene, allora sei uno di quelli, quei leoni che nel capitalismo prospera, ok? A parte che poi l'inculata arriverà anche per te. Ma comunque, se invece non sei così, allora sei soggetto, sei potenzialmente soggetto a questa epidemia endemica di depressione che ha un'origine politica, ok? Questo è il concetto grandissimo. E io lo dico perché qualsiasi scrittore, qualsiasi opera, secondo me oggi va anche giudicata sulla base della sua capacità di rappresentare in trasparenza questo zeitgeist, cioè questo spirito dei tempi, che è imbevuto di realismo capitalista e quindi di depressione, ok? Ma è anche vero che c'è di più, c'è di più. In questo libro il nostro grandissimo Mark Fisher ci parla anche dell'ontologia che è un concetto un po' strano. Allora, non si tratta di antologia, no? Non si tratta neanche di ontologia, cioè quel ramo della filosofia che tratta del, diciamo, dell'essere stesso, cioè della differenza fra l'essere e il non essere tra ciò che esiste e tra ciò che non esiste, è in realtà la ontologia, scritto hauntologia, cioè dall'inglese, no? Come le case infestate, haunted house, ha a che fare in realtà proprio col concetto di spettri. E da qui i spettri della mia vita. Perché spettri? Perché Mark Fisher ha, sulla scorta di altre letture filosofiche, in primis Derrida, ok? Che cosa ha individuato? Ha individuato questa emozione, chiamiamola così, dell'ontologia che impregna il nostro vivere contemporaneo e dà proprio una forma al nostro modo di essere come persone ma anche come società, soprattutto come società. E ve lo dimostrerò. In ogni caso ha a che fare con questo concetto di spettri. Perché? Perché ontologia significa riconoscere che ci sono delle realtà diciamo totalmente impalpabili, teoriche, virtuali. ecco la parola è questa, virtuali che però hanno una enorme un enorme impatto concreto sulla realtà tangibile. E come succede? Succede in tanti modi diversi. Per esempio pensiamo al concetto stesso di capitale. Il concetto di capitale ragazzi lo ha tirato fuori Marx, non è una roba che esiste dall'inizio dei tempi. Quindi lui lo ha inserito all'interno di un discorso teorico, ma comunque tutto teorico. Allora, ma da quel momento in poi in un certo senso lui l'ha individuato, ma questo capitale che cos'è? È chiaramente un'idea, eppure tutto il nostro modo di vivere si basa su questa idea. Non era così prima, non era così una volta. ma c'è di più, c'è anche il concetto che siamo posseduti, siamo infestati da alcune cose che hanno a che fare poi con appunto questo crollo della possibilità di un'alternativa. Guardate, lui, Mark Fisher, descrive molto bene che a un certo punto il tempo ha continuato a scorrere, ma il futuro è morto. Questa cosa è spaventosa. Ok? Il tempo scorre, ma non c'è più il futuro. Non c'è più. La dimostrazione è piuttosto semplice e intuitiva, quindi vi porterò questo esempio, questi esempi. Pensate a, che hanno molto a che fare con Broken Stories, con quello che ci piace in quanto post-nerd, pensate a, per esempio, tutti quei, beh, lui parla molto di musica, ok? Pensate a come è stata estremamente tumultuosa, ribollente di innovazione, la musica, la musica rock, la musica pop, dagli anni, di anni 50, dal dopoguerra, ecco, mettiamo, dal dopoguerra, ok? fino a gli anni 70, 80 e anche perfino 90 con la jungle, con la con certa innovazione musicale, ok? Considerate quanto è stata incredibilmente fertile, cioè, anche se io, io da ragazzino ero uno degli anni 80, ok? La musica degli anni 80 aveva questa impronta, aveva questa, questo sentimento di innovazione che la faceva, la poneva in netta contrapposizione col passato, cioè, c'erano tutti i sintetizzatori, per esempio, c'erano suoni nuovi, c'era la new wave, c'era il heavy metal, c'erano tutte queste cose nuove che venivano fuori, la musica era un continuo, continuo sperimentare, ok? Ma sono nate cose grosse dal punto di vista delle correnti musicali, e così è andata avanti anche fino agli anni 90, c'è stato, io lì seguivo molto meno, ma lui, Mark Fisher ci dimostra che è così, ok? E adesso? Cioè, non è un discorso di nostalgia, di dire, ah, una volta si stava meglio, adesso si sta peggio, non è questo, è che molto semplicemente abbiamo smesso di inventare il mondo, di inventare il futuro, abbiamo smesso a un certo punto di credere che fosse possibile migliorarci, avere qualcosa, avere delle idee strepitosamente nuove. Ragazzi, siamo nel 2021 che sta finendo, e parliamo tutti di Ghostbusters Legacy, ci rendiamo conto, parliamo tutti di Spider-Man, parliamo tutti di del remake di qualsiasi cosa, parliamo tutti di concetti, personaggi, sonorità, che non sono nate adesso, che sono di per sé vecchie, ragazzi, la differenza fra la musica degli anni 60 e quella degli anni 80 era abissale, abissale, molto più di quella che divide la musica degli anni 80 da quella del 2021. Ci rendiamo conto di questo? anche nella musica c'è un una rielaborazione, una malinconica riproduzione delle sonorità anni 80 con i sintetizzatori, con e ci piace, ci piace un casino. Ragazzi, il cinema è fermo al passato, il cinema di massa, noi tutti rivogliamo sempre le stesse cose. Pensate a Star Wars, Star Wars perché è riesploso, perché è di nuovo ovunque, perché noi non crediamo più che oggi sia possibile inventare Star Wars, un altro Star Wars, un altro fenomeno simile. Non abbiamo più quella spinta, non crediamo più che il futuro esista. Ok? E da qui da qui un sacco di conseguenze per la nostra cultura, per il nostro modo di essere, per la musica, per un sacco di cose, ragazzi. E questo è il concetto di futuro perduto di cui parla Mark Fisher in spettri della mia vita. Ed è impressionante quando ti rendi conto che è vero che noi effettivamente non viviamo in un'epoca di, come altri youtuber, anche come io, l'apprezzato Girola, per esempio. Alessandro Girola ha dedicato un video, magari ve lo metto qui sotto, alla malinconia, alla nostalgia del passato e quindi di nuovo i giochi di ruolo, di nuovo Dungeons & Dragons, di nuovo i film di una volta, i brand di un tempo, di nuovi supereroi che non sono nati certamente Marvel in questi anni, non sono contemporanei. Noi stiamo vivendo un futuro preso in prestito dal passato, perché non siamo più in grado di generarne uno. Ed è spaventoso. È questo che fa veramente paura. Davvero, ogni singola cosa, se ci pensate, quasi tutto ciò che abbiamo per le mani, da un punto di vista di produzione culturale, è venato di questo tentativo di ricreare la sensazione che abbiamo provato un tempo, quando eravamo convinti che il futuro esistesse ancora. E quindi Star Wars, quindi Ghostbusters, quindi Spider-Man, quindi Rocky, ragazzi. C'è Rocky IV di nuovo. Il cut finale di Rocky IV. Rocky IV! Cos'è? 86, 87? C'è un film bruttissimo di per sé, però lo adoriamo. dobbiamo capire che siamo chiusi in un loop di ontologia. Siamo infestati da questo futuro bloccato. Il tempo passa, ma il futuro non arriva mai. Siamo lì. E questo è veramente spaventoso. È veramente spaventoso. Non si tratta di essere nerd che ripercorrono, che riportano alla vita le loro passioni del passato. no, perché le passioni del passato che abbiamo avuto erano estremamente innovative, erano il futuro di quel passato. E adesso noi siamo nel futuro, siamo nel passato del passato. Cioè, non saprei come... In realtà stiamo continuando a credere che il futuro sia quello di quando eravamo piccoli. Perché? Perché il mondo si è fermato, ragazzi, perché non ci sono più utopie possibili, perché siamo tutti realisti, capitalisti. e badate che questo non è un discorso da comunista, questo è un discorso da essere umano, ok? Se questo non è orrore, io non so, non so che cosa lo sia. Ragazzi, depressione infestante, malinconia che in realtà è un fenomeno molto più grande, cioè la ontologia. Il futuro non è arrivato e noi cerchiamo di rigenerarlo, di ricrearlo, di riprodurlo fittiziamente, ma è solo la sensazione del futuro, perché fare oggi un film di Star Wars è chiaramente restare nel passato, ma ci dà quella sensazione di futuro, di quando nasceva Star Wars, ok? E poi, e poi, appunto, questi futuri perduti, il futuro non arriva più e noi siamo bloccati in una situazione in cui non è possibile modificare niente, siamo tutti spaventati, ma non abbiamo nessuna speranza che questo sistema possa essere cambiato, per cui siamo nel realismo capitalista e nell'idea stessa che è più facile che finisca il genere umano piuttosto che finisca il capitalismo. Capite di cosa stiamo parlando? Eh, insomma, questo è Mark Fisher, spettere della mia vita, dove poi trovate anche un sacco di recensioni di dischi, di opere che rappresentano e che meglio di altre ci portano a sentire, a veramente quasi tenere in mano questa ontologia, questi futuri perduti nelle opere d'arte che in trasparenza ce dimostrano. Ok? Bene, ok. Ragazzi, un video estremamente denso, spero che comunque vogliate guardarlo, diffonderlo, condividerlo perché qua stiamo parlando di cose che riguardano tutti, quindi, su, allora, se mi siete leggermente amici, prendete questo video e condividetelo sui social, stiamo parlando del futuro perduto e del tempo che scorre ma non porta da nessuna parte e se qualcuno tra chi guarderà questo video si sente veramente in quel disagio, in quella depressione, in quella sensazione weird, sappia che non c'è, cioè, non è colpa tua amico, amica, non è colpa tua. Non sei tu, non sei solo tu, è un fatto politico, è un fatto sociale, è una questione collettiva e interpersonale e quindi io ti abbraccio perché questo tuo malessere è anche mio, ok? Ciao da Broken Stories.